Salve a tutti ragazzi da Jimmy J Fringley 93, nuovo episodio su Teor del 1886 ragazzi, vediamo, dobbiamo trovare un'uscita dalla fonderia. Sì, direi che può funzionare come... Sì, guarda signorina, non me ne racconto. Con piacere Lakshin, come cavolo si chiama. Vediamo se possiamo uscire. Sì, lo sapevo. Comunque ragazzi, la nuova direttiva è trovare un'uscita dalla fonderia. Sì, guarda, mi hai iscritto due volte. Posso farcela? Sì, sì, direi di sì. Possiamo saltare come Arnaud Oriane. Ragazzi, dobbiamo andare ad aprire la porta dall'esterno perché sennò... E non caviamo un buco o... No. Non caviamo un buco dal cane. È quello che è ragazzi. Eccola qua ragazzi. Fuoco holly. Vai. Sì, mi vedi qua. Sì, mi vedi qua. Al mio tre. Uno. Due. Attenzione! A poco come si... Aspetta! Prossim tanti! Prossim turi! No! Eccolo! Eccolo! Cattolore. Eccolo. Un momento. Sì ragazzi, fucile a bomba è un'arma sempre utile Dobbiamo prendere qualche bomba a mano Direi di cambiare arma Questa deve che è ottima Ah, ci stanno le munizioni ragazzi, sì Ma è sempre buono Sì, lo so Ragazzi, sembra spostare i carri Vediamo No, questa volta no ragazzi, non dobbiamo spostarli Vediamo C'è un imboscato qua? Sicuramente No ragazzi, troppo silenzio non va bene Lui, che cosa ci fa qui? Devi, va tutto bene Parla pure tranquilla Devi parla È la stessa storia dell'arionave, Rani Il carico è diretto alle Americhe e alle Indie occidentali Quanto? Più del doppio delle altre volte Recuperano il tempo perso Questo carico non deve raggiungere i lidi del nuovo continente Non è tutto La sicurezza è in allerta Hanno fatto il suo nome Ci sarà un incontro Forse siamo ancora fortunati Hanno fatto il nome di chi? Uno dei vostri stimati lord Eh Sì, e io so più del dovuto ragazzi Perché ho quasi terminato il gioco E se vedete che io non ballo ragazzi Durante le cut scene Sì, le scene cut Insomma, ragazzi E per farvi capire di più Sennò E non è bello Lord Hastings Ma che caro Sì È parecchiano ballando ragazzi Non mi sembra Ma che cavolo di lingua stanno parlando ragazzi Ah, andiamo Boh No, secondo me la prosperazione c'è con Eh Ti ho sorpreso ancora, cavaliere La famosa regina guerriera che sfidò il nostro esercito in India I nostri generali dicono di averti uccisa Guaglior I nostri dichiarano di averti uccisa Guaglior Ho sempre tratto vantaggio dai giudizi a vita di vendi sciocchi Cavaliere Dai un'occhiata a te Sì, mi ha pensato a stare zietto un po'. Io non vedo niente. Nuova direttiva ragazzi, dobbiamo raggiungere il bacino di arenaggio della nave. Io comunque non ho visto niente, magari nella stiva il carico, sicuramente. Dobbiamo aprire una porta ragazzi. No, guarda! Eh, due belle sorelle. Vai a sorvegliare le vie di fuga. Rani, sono la tua scorta. Il mio compito è proteggerti. E' un ordine. Giusto, dai! Vai, vai, vai! Noi ci occuperemo del lavoro, Spock. Eh, scusa, non ti volevo prendere il pericolo. Di qua. Possiamo attraversare la nave fino al deposito principale. Candierna Valle delle Indie Unite. Blackpool, ragazzi. In inglese. Penso io alla manovella. Occhi aperti mentre sollevo la piattaforma. Giusto. Eh, se no chi la guarda. Eh, ragazzi, magari fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi piace. Fammi salire. Voglio guardare dentro. Certo. Ci sono parecchi guardie. Muoviamoci in silenzio. State brutti, ragazzi. Se trovano i ribelli, toccherà noi stati fuori. Sì, signore. Non vedo l'ora. Sì, salti all'Arnaudoriana, ragazzi. Come in Diana Jones. Eh, non mi è mai piaciuto questa cosa, non mi è mai piaciuta, ragazzi. Sì, dobbiamo spostare il cussore con la lavetta destra. Adesso ci sgamano sicuramente, ragazzi. A mille per mille. Ti pareva? Gli intrusi sono qui! Portate in salvo il Lord! Merda. Portate qui il culo! Sì, va bene. Altre guardie nell'ascensore! Una un detonatore! Oh, lei è nata. No, poch, come se io la gett... Il ponte è sgombro Dovremmo muoverci Sì ragazzi direi Sì ragazzi direi che ci siamo liberati Così velocemente Dei nemici che non me ne sono neanche accorto Quando l'ho giocato per me ragazzi Ci ho messo una vita Ma perché cavolo ci spavano? Ma porca miseria Lancio una bomba Bomba Diavolo Sì questa pistola non mi piace ragazzi Allora un po' di munizioni No Eh no Sinceramente non mi serve il detto Ma per Andiamo Stanno salendo sulla nave Prepariamoci Dovremo aprirci un varco Ok ragazzi Vediamo dove stanno Sì Questa pistola Non mi piace Dai No Non va bene ragazzi Dobbio cambiare pistola No Poggi Come sai Sì Poggi No Sì No No Sì 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 questo mi è piaciuto si dai vola fuori il cappello ma lui non muore ragazzi i soliti headshot boom mangato dobbiamo cambiare pistola ragazzi io mi prenderei la mano vediamo se la troviamo in giro questo mi è piaciuto ok vediamo con da destra si pistola non ce ne stanno ragazzi prendiamo qualche granata se no la prenderemo in eteretana ragazzi possibile ragazzi non c'è una pistola magnum ma dai allora è meglio questa semiautomatica munizioni a gogo ragazzi no ce ne stanno giusto qua vediamo chi c'è qua ragazzi un arsenale di tutto rispetto non c'è da meravigliarsi la compagnia porta munizioni in tutto il mondo uh ragazzi abbiamo trovato la mano che le guardie portuali usino un equipaggiamento all'avanguardia basta con le tue congetture troviamo ciò per cui mi hai portato qui d'accordo si imbatti andiamo a vedere cosa c'è e ne è da qui al mio segnale pronta a coprirmi bravo si ma non giusto al nessuno ho un cattivo presagio han ripiegato per organizzarsi non abbiamo molto tempo prima che facciano ritorno ora la prova donna come desideri ok ragazzi vediamo si la bomba a mano bellissima si magari ci serviranno sicuramente tra poco ragazzi quindi united india co un magazzino munito anche lì esamina il carico cerchi eventuali segni distintivi sulle casse si lo so io tesoro il contrassegno della compagnia allora ragazzi non addirittura dobbio trovare le casse con le insegne della compagnia trova qui deve essere quello che stiamo cercando aiutami a metterla giù eh ragazzi così prima a primo colo ottimo direi si eh piede di porco no magari di maiale dai vediamo cosa c'è in questa bella scatolona ragazzi osserva il male che entrambi combattiamo vampiri non può essere come i mezzosangue consolidano il loro potere provati da un lycan nella tonnerra Hastings e la sua stirpe stanno diffondendo il loro flagello all'interno Hastings non può essere uno di loro ma no eh molti a Whitechapel hanno visto il tuo nobile signore vagare per le strade a notte fonda a caccia di giovani donne le vittime dello squartatore voi lo chiamate così come credi che l'assassino continui a eludere le ricerche del commissario Doe il cavaliere Whitechapel è il terreno di caccia per i suoi civili ecco tutto spiegato ragazzi attenzione e si sta svegliando ah vai prendi la netheretano anzi nel culo proprio di vera ragazzi si abbiamo scoperto il complotto pure avete capito ragazzi c'è l'invasione dei mezzo sangue degli antichi dei bambiri non si capisce nulla sangue di dio oh merda ragazzi oh my god direi che se ci prendono ci fanno il culo ragazzi nuova direttiva questo è sicuramente perché i bambiri sono in bordo a rompiscato ah hai trovato il carburante e non possiamo metterlo nella macchina io ho detto una eh sì le darò fuoco preparane un'altra figa zio bellissimo accendino lo vorrei avere anche io secondo voi bruciandone due si accendono anche l'altra si può essere da questa è pronta si e lo so che è pronta ti ho visto eh ragazzi qui brucia tutto stiamo piccando il fuoco aiutami a salire lassù eh sì perché vi guardate ok ragazzi si stavano guardando ma scherzi a parte ragazzi c'è una scala qui sì eh lo so che è una scala comunque ragazzi è piaciuto questo episodio eh barbecue sì si sta piccando tutto avevo i miei dubbi ragazzi lasciate un like commentate potete condividere il video eh sì tanto eh giustamente quindi la benzina a quei tempi costava poco vabbè dai ragazzi e ci sono le munizioni ragazzi per questa puntata direi che da Jimmy J Fringlion under 3 si arrivo subito signorina e ragazzi per questa puntata è tutto Jimmy J Fringlion under 3 vi saluta e vi da appuntamento alla prossima puntata mi raccomando iscrivetevi al canale se vi piacciono se vi piacciono i miei video ragazzi bella e ci becchiamo ciao alla prossima in the order 1880 l'iscrivetevi al canale Grazie per la visione!